football è un gioco al quale ci sfideremo io e il gallo belotti in compagnia del sempre disponibile benji price ogni volta che lo chiamiamo lui ci viene ci viene a trovare ci verranno fatti dei cross quasi dei calci d'angolo noi in posa plastica dovremmo cercare di insaccarli come tu sai fare benissimo la particolarità che alcuni palloni saranno veri altri no ok questo è un gioco che non ha nessuno scopo se non quello di scoprire quali sono le palle vere e quali no sei pronto se ci mettiamo le fascette perché la sicurezza è importante non c'è ancora detto il materiale di cui sono fatte le palle insomma lo scopriremo vivendo parto parto io e cross dalla sinistra vai parata di piedi parata di piedi vai gallo da la vai lo sfondi vai cross da lì vai mangiare è buono benji è in formissima è in formissima oggi ti sfondo ti sfondo portiere un po più più scarso ti ha preso il più forte che c'era in circolazione vado di scorpione vado di scorpione vado di scorpione vado di scorpione quanto? riesco a pigliarlo sempre mezza rovesciata vado di scorpione per portiere deceduto potrebbe anche finire qui faccio l'applauso ad andrea il gallo belotti buongiorno 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 buongiorno